Si accusa a contrasto alle piazze dello spazio, un uomo denunciato e un altro segnalato. Nell'ambito dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto della vendita e dello spazio di sostanze stupefacenti nella cosiddetta piazza dello spazio seracusana, agente delle volanti nella serata di ieri hanno controllato un uomo di 31 anni e lo hanno denunciato per il possesso alla fine dello spazio di oltre 4 grammi di hashish per il porto illegale di un coltello a serramanico e per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Al 31enne, già notte le forze delle polizie, è stata sequestrata altresì la somma di 150 euro probabile proveniente dall'attività di spazio. Gli uomini diretti dalla dottoressa Guarino hanno segnalato all'autorità amministrativa competente anche a un siracusano di 29 anni trovato in possesso di una modica quantità di crack.